Nell'era digitale. F attraverso Francesca R a cura di VB, Giuseppe. L'altra volta hai detto che sulla terra ci sono individui che hanno un'evoluzione molto più elevata della media. Sono nati nell'era digitale? Guida non c'entra nulla. La necessità di far incarnare in un momento ben definito entità più evolute è altra. Non conta nemmeno la loro importanza sociale, il che significa che si può incarnare come una persona umile una delle creature più evolute del pianeta. La sua importanza è l'interazione con tutti quelli che possono entrare in contatto con lei. Grazie a tutti.